Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando della scomparsa del 62enne in Valdarno di cui è stato ritrovato il cadavere alcune ore fa, è tornata sul posto Chiara Sadotti. Le persone avvertono tutti un senso di disagio e di tenerezza anche nei confronti di Claudio che era conosciuto da tutti. È una comunità scossa quella di Castelfranco Pianliscò dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Claudio Bindi. Anche l'amministrazione comunale ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione era stato trovato mercoledì pomeriggio in un bosco di figline Valdarno ad accorgersi del corpo una coppia che stava passeggiando. Immediato il timore che potesse trattarsi proprio del 62enne scomparso un mese fa dal vicino comune di Castelfranco poche ore dopo la conferma quando i figli hanno riconosciuto gli indumenti. Adesso spetterà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Da una prima ricognizione esterna non sembrerebbero comunque essere emersi indizi di una causa violenta. Claudio Bindi era scomparso nel primo pomeriggio di sabato 4 marzo dopo essere stato accompagnato dal cognato dal barbiere di Pianliscò dal quale però non si era mai presentato. Mai. Non aveva neanche un appuntamento in realtà. Non aveva un appuntamento, non l'avevo neanche visto transitare davanti al negozio. Di lui poi più nessuna traccia. Il giorno che è scomparso l'ha visto? Un quarto, tre e mezzo. L'ha visto al bar? Al bar. Come stava? Una persona non normale, mi sembra un po' strano. Immediate le ricerche delle forze dell'ordine, concluse nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita in quell'anfratto che assomiglia alla tona di un animale. Una serie di furti si è verificata in strada. Nella notte tra ieri e oggi a San Giovanni Valdarno, zona Fornaci, Bersaglio, le auto principalmente berline. Quattro i colpi denunciati ai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Adesso invece ci spostiamo a Firenze perché c'è un imprenditore a retino, Gianni Gori, che in questo caso rappresenta Braccialini, che è un po' in guerra, se così possiamo dire, con il Comune di Firenze. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Io ritengo che ci sia stata troppa superficialità nell'esaminare le richieste che ha fatto il nostro avvocato o le nostre difese dopo la prima volta. E se uno legge attentamente cosa vuol dire oggetti preziosi, oggetti di pregio e qual era l'intento e qual è sempre stato in questi anni l'intento sia dell'UNESCO sia di quello che doveva esserci su Pontevecchio, è evidente che ci sarà sicuramente, ci auguriamo, una rivisitazione di quello che è il loro decreto, chiamiamolo così, che esiste e che il 5 maggio probabilmente decade e va rinnovato. La guerra tra il Comune di Firenze e Braccialini, azienda dal cuore a retino dopo l'acquisizione da parte del gruppo Graziella pochi mesi fa sembra essere solo all'inizio. Dopo l'apertura del negozio in Pontevecchio a Firenze è arrivata la decisione del SUAP, lo sportello unico delle attività produttive del Comune di Firenze interpretando il regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico avrebbe impedito la vendita di alcuni prodotti dell'attività, in particolare le borse. E così il brand toscano ha deciso di chiudere il negozio in segno di protesta. Voi in questo momento avete chiuso il negozio un po' in segno di protesta, avete tirato giù? No, noi abbiamo chiuso per protesta perché non riteniamo assolutamente giusto di farci proibire di vendere le borse. È evidente che noi siamo un'azienda di gioielli perché credo che quello che vende Graziella in oro in un anno non lo vende tutto il Pontevecchio messo insieme. Il nostro gruppo fattura 250, fatturerà quest'anno penso circa 250 milioni di euro, credo tutto il Pontevecchio messo insieme, 40 negozi, non fattura neanche 60 milioni, 70 milioni. Quindi ritengo che più un'azienda di oro di noi non penso che ci possa essere questo, basta vederlo dai nostri bilanci. Però l'interpretazione, la voglia di creare un brand che porti la moda e che porti l'oro in una dimensione completamente diversa nei confronti di una consumatrice, di una donna più giovane, più cool che non si mette più la collana, l'anello, l'orecchino come una volta è data proprio dalla creazione di queste borse gioiello che sono abbinate sempre con un orecchino o con un pendente, con un anello ma mai con un 7 come usava nel 1950. Ma se il provvedimento non dovesse decadere, sono pronte le carte bollate. Ma io credo che ci sia, prima c'è il TAR e poi noi andremo sicuramente al Consiglio di Stato perché l'italiano vero non è interpretabile non credo che si possa interpretare cosa vogliono dire oggetti prezioni. Voi rifate al regolamento UNESCO dove appunto si richiama all'oggetto prezioso, insomma, alla sua storia. Alla difesa della tradizione, alla difesa della storia che dentro le mura ci siano oggetti di pregio e di tradizione. Più che un oggetto di tradizione, quello di questa storia, di questa azienda credo che non ce ne possa essere tanti. È stato indubbiamente un venerdì di passione per i cittadini di Arezzo e dintorni che da ieri sera fino a questa mattina hanno segnalato aria irrespirante le zone sono quelle di Battifolle, Le Poggiola, Ruscello, Chiani, San Zeno ma anche Olmo, Ripa di Olmo e ancora via Malpighi e via dei Mori in zona San Zeno. Il comitato Stop Puzzo ad Arezzo ha raccolto le esinerazioni nel gruppo social e invitato i cittadini a segnalare all'autorità competenti ASL e ARPAT. Sono state proprio loro nelle scorse settimane, lo ricorderete, con i controlli e gli interventi a definire dannosi per lo stato psicofisico dei residenti in queste zone, appunto i cattivi odori. Una delle fonti era stata individuata, ovvero la distribuzione dell'ammendante compostato misto, un compost di origine naturale che si forma dalla decomposizione degli scarti vegetali e dell'industria agroalimentare. Ovviamente non sappiamo se la causa dei cattivi odori di queste ultime ore sia proprio questa o un'altra. Di certo i cittadini sono piuttosto preoccupati perché ovviamente sta arrivando la bella stagione, si tengono le finestre aperte e insomma non vorrebbero rivivere un'estate come quella del 2022. Torniamo a parlare invece dello chef Mariano Scognamiglio. L'ultimo intervento in ordine di tempo rispetto a questa vicenda è stato quello del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che ha detto che Arezzo non è una città omofoba. E allora sentiamo quali sono gli ultimi sviluppi nel prossimo servizio. Vi troviamo al lavoro nel vostro locale perché per il giorno di Pasqua, ma vediamo che insomma i clienti ci sono anche oggi, il locale è pieno. Questa è la prima buona notizia? Sì, questa è la prima buona notizia. La seconda buona notizia è che ovviamente domani, a Pasqua e il giorno di Pasqua siamo pieni, Pasquetta alle prenotazioni stanno arrivando, e anche da Arezzo ovviamente, ma non avevo dubbi, non avevo assolutamente dubbio. Ci sono dei clienti aretini che mi hanno telefonato, ma tanta gente per strada solidarietà. Di fatti la generalizzazione sembra un grosso guaio, le parole poi si strumentalizzano e quella. La seconda buona notizia è che il sindaco ci ha invitato, io le rilancio anche e le invito, vengo a mangiare con la sua signora così vede che riesco a cucinare, vede anche la mia cucina, a modo di provarla, almeno si parla di questo, di cucina. Potrebbe finire a Tarralucci e Vino, anzi a Stinco e Pastiera, la storia di Mariano Scognamiglio, che nei giorni scorsi aveva lanciato un SOS, che poi ha preso una piega fin troppo esasperata. Il mio ristorante è vuoto, aveva detto, perché sono omosessuale rischio di dover chiudere. In realtà aveva poi aggiunto anche che la pandemia e il caro Bollette avevano fatto la loro parte nei bilanci non troppo soddisfacenti. Ormai però quell'affermazione forte, dovuta comunque ad offese davvero ricevute, era partita, come si suol dire, per la tangenziale e addirittura hanno pubblicato anche i quotidiani oltreoceano. Quella notizia vera è che Brad Pitt è meno famoso di Mariano. Assolutamente. La vera notizia è questa, avere un compagno così. Infatti anche ieri gli dicevo, sono orgoglioso di te perché dalle Alpi alle Piramidi aveva avuto un grandissimo risconto. Ma sì, perché c'è stata la notizia che è stata ribaltata addirittura sulla stampa internazionale, il Times di Londra. E allora a risentirsi è stato il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che ha difeso il buon nome della città dicendo che Arezzo non è una città omofoba e definendo fuori luogo le affermazioni dello chef. Il primo cittadino ci teneva, insomma, a rimarcare questa cosa ed è giusto che lo faccia da sindaco, però insomma voi non avete mai detto che Arezzo è una città omofoba. No, assolutamente. Io ho detto soltanto, lo sai, le spiegazioni sono state tante, ho detto soltanto, ho dato la pandemia, tutta una serie di cose. Sicuramente non ho detto tutto, ma sarei un pazzo come dire tutti i napoletani sono così, ma non è così, penso che sia implicito. Ghinelli ha poi invitato lo chef ad un incontro chissà che non possa avvenire di fronte proprio ad un piatto cucinato dallo chef di origine napoletane. Certamente, l'invito parte sia da me che da lui, assolutamente. Così magari si toglie anche quel piccolo dubbio che aveva nei confronti, se sa fare il suo lavoro o meno. Quindi volentieri sarà mio ospite, io glielo ripeto, l'aspetto nel mio locale con la sua signora, sarà mio ospite a cena, insomma, quando vuole, a pranzo o a cena, insomma, decida lei. Sicuramente ci rivedremo e grazie per l'invito. Non ci sarebbero altri problemi strutturali alla scuola Margaritone di Via Tricca, lo avevamo anticipato, ma adesso è proprio l'assessore alla manutenzione del Comune di Arezzo a confermarlo, Alessandro Casi. Ricorderete, nella scuola c'era stato il crollo di parte di un controsoffitto in una aula, che era caduto in testa ad un alunno, poi soccorso all'ospedale di Arezzo, comunque non con ferite gravi. Dopo i controlli, la chiusura della scuola, con ordinanza del sindaco di Arezzo Ghinelli, e la chiusura appunto per effettuare i controlli, sembra che, insomma, dalle verifiche effettuate, non ci siano altri problemi strutturali sul tetto della scuola. Le immediate periferie di Arezzo sono lasciate in abbandono. La denuncia è dell'Osservatorio dei Cattolici Democratici di Arezzo, Demos, il cui viaggio si è soffermato nelle ultime ore sul popoloso quartiere di Tortaia, abitato, scrive appunto, l'Osservatorio da tanti cittadini che segnalano di servizi come le barriere architettoniche, lo stato di mala manutenzione dei parchi, la faticenza degli spazi ludici, le buche sparse in tutta la zona dai percorsi all'interno del parco Tortaia. E allora, insomma, Demos chiede più attenzione e più decoro per questa zona. Parliamo adesso invece della Pasqua. Si preannuncia Pasqua e Pasquetta da tutto esaurito sotto il profilo delle presenze turistiche. La nostra città viene scelta addirittura rispetto a Roma e Firenze perché, insomma, non è una meta troppo inflazionata. Veniamo dalla provincia di Trento. Abbiamo deciso di fare un giro nella Toscana e come prima tappa abbiamo deciso di venire a Arezzo perché c'è una cittadina veramente bella. C'è un sacco di arte qua in giro. Medievale, i borghi. Molto bella, piccolina, ma con tante cose da scoprire. Adesso dobbiamo andare a scoprirle. Arrivano principalmente dall'Italia ma a scegliere Arezzo sono anche molti turisti stranieri. Vengo da Madrid, da Spagna. Molto, molto bonito Arezzo. Mi sta incantando. Sono da Austria. Sì, è bello. Si tratta molto bello. Si prospetta così una Pasqua con il segno più per il turismo aretino. Il tutto esaurito previsto, infatti, ormai è quasi certo. Nelle strutture il tasso di occupazione che adesso c'è sul venduto diciamo per motivi scaramantici diciamo che è superiore al 90% ma non dubitiamo che questo possa arrivare tranquillamente al 100%. Trend a positivo non solo nella settimana pasquale. Arezzo ormai si sta infatti posizionando nel mercato turistico come confermano i numeri registrati nei mesi tradizionalmente considerati morti. Il primo trimestre del 2023 è stato un ottimo trimestre. È stato un ottimo trimestre per tre indicatori che ci dicono che sta andando molto bene il turismo. Il primo indicatore è il tasso di occupazione. Il trimestre si è chiuso con un tasso di occupazione medio-mensile dello stesso del 2022, invece spalmato su tutto l'anno. Per quanto riguarda la tariffa, siamo ancora a una tariffa leggermente superiore rispetto a quello che era il 2021 ma l'indice migliore che è quello che ci dà la definizione è l'indice di doppia occupazione, cioè quell'indice che calcola quante volte una camera viene venduta come singola o come doppia. In questo caso nella letteratura scientifica si sostiene che quando questo indice è superiore all'1,5 vuol dire che la destinazione viene scelta per fare del turismo. E nel primo trimestre, credo per la prima volta da quando io conto i numeri è superiore all'1,5, anzi per esattezza è 1,52. E sarà forse però una Pasqua all'insegna purtroppo delle basse temperature o comunque del maltempo. Intanto c'è un'allerta meteo emessa dalla sala della protezione civile regionale che riguarda la Toscana meridionale. In particolar modo le province più interessate sono Siena, Grosseto, Livorno e Pisa ma ovviamente potrebbe non essere esclusa dalle piogge appunto nelle prossime ore anche la provincia di Arezzo. Intanto c'è l'ordinanza nel comune di Arezzo che proroga il termine di accensione dei riscaldamenti fino a venerdì 14 aprile perché appunto c'è stato questo calo delle temperature. Torniamo a parlare della Pasqua perché c'è stata una donazione davvero particolare che è arrivata alla Santa Sede. È un pacco speciale quello che è partito dalla sede Menchetti di Cesa in Valdichiana in provincia di Arezzo destinato niente di meno che a Papa Francesco un augurio per la Santa Pasqua. Il box che è stato consegnato in Vaticano conteneva oltre alla classica colomba i prodotti della tradizione toscana pasquale, i ciambellini, la panina unta con rigatino e la panina con nuvetta, protagoniste della tavola pasquale e i cantucci della linea Menchetti, un classico senza tempo tipico della nostra Toscana. Un invito speciale dunque che è stato recapitato direttamente in Vaticano insieme al libro sulla vita di Santi Menchetti, una vita in un chicco di grano scritto da Lucia Bigozzi. È stato proprio Marco Menchetti insieme al fratello Corrado a recapitare il pacco così speciale. Un omaggio da parte di tutta la nostra famiglia, scrivono i due fratelli, siamo da tre generazioni fornai nel cuore della Toscana. I nostri prodotti sono fatti a mano con tutta la dedizione e la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. La fede ci accompagna quotidianamente, è stato un onore per noi far recapitare i prodotti a Papa Francesco. Si è regalato per i suoi 77 anni la riapertura della buca di San Francesco e così mister Prada Patrizio Bertelli appunto torna a far rivivere una delle realtà più importanti del tessuto commerciale aretino e soprattutto dell'accoglienza e poi c'è ovviamente grande attesa per la riapertura del caffè dei costanti. Ha riaperto le sue porte il 6 aprile, una data non casuale in concomitanza con il 77esimo compleanno del suo nuovo titolare Patrizio Bertelli. Ai tavoli della buca di San Francesco, locale aperto per la prima volta nel 1929, negli anni si sono seduti regini, artisti, politici ed attori da Ceplin a da lì passando per Gustavo Possesso di Svezia, solo per citarne alcuni. Ed adesso i riflettori si sono riaccesi sullo storico locale aretino, in menù i piatti della cucina, aretine toscana, trippa ribollita, agnello fritto e pappa con il pomodoro. Dal patron Prada poi passa anche la salvezza di un altro storico locale di piazza San Francesco, il caffè dei costanti, locale che è stato set del film Premio Oscar La vita è bella e che Bertelli si è giudicato all'asta pochi giorni fa. L'imprenditore infine possiede sempre nella stessa piazza anche l'ex farmacia del Cervo, oggi trasformata in un ristorante gastronomia. Siamo allo sport, intanto una notizia che riguarda invece la cronaca giudiziaria. Il Tar dell'Umbria ha disposto la sospensiva delle diffide inflitte ai sei tifosi a Maranto per i fatti di Città di Castello del 29 gennaio 2022, quel giorno l'Arezzo perse 2-0 contro il Trestina e i cento sostenitori in trasferta contestarono giocatori, staff e dirigenza, per sei di loro ci fu appunto il DASPO, il Tarra, però stabilito che dagli atti di indagine appare incerta l'identificazione dei sei tifosi sul luogo dove si sono verificati i fatti e di qui l'accoglimento del ricorso presentato da Giulio Ciabattini, legale appunto dei sei sostenitori a Maranto. Parliamo adesso invece del calcio giocato, dopo lo 0-0 contro l'Ostia Mare sentiamo le reazioni. Non siamo stati bravi a concretizzarla, naturalmente bastava concretizzarne una di queste 4-5 belle e ce l'avremmo fatta. È andata così in pazienza, andiamo avanti. È chiaro che la partita della prossima, se la vinciamo, credo sia fatta, dovrebbe essere matematica. Però peccato, peccato perché loro sono stati bravi, hanno difeso bene, hanno dovuto difendere e ci hanno anche creato dei problemi. Forse è la partita in cui abbiamo subito più palle inattive di tutto l'anno. Però ecco, loro non mi ricordo una palla, una palla con noi ne abbiamo vute, quattro belle, belle, belle. Almeno una bisogna concretizzarla se vuoi vincere. Non una buona, una buonissima Pasqua. Se avessero detto che a quattro giornate alla fine eravamo primi con 7 punti sulla seconda, avremmo credo tutti firmato con i sangue, con i gomiti, con chi? Sì, siamo a 7 punti sulla seconda e quattro alla fine e io credo il cammino finale è straordinario. È un po' fisiologico, una prestazione un po' sottotono, però tanto non cambia niente. Abbiamo il match point domenica prossimo e quindi ce la giocheremo, sarà ancora più bello. Sono una squadra dignosa, comunque si sono messi là, hanno perso tempo, la classica squadra di Serie D, ho fatto tutto rispetto perché hanno anche buonissimi giocatori, però abbiamo giocato poco, quindi abbiamo trovato un po' di più difficoltà, però comunque le occasioni un po' le abbiamo avute e non siamo riusciti a sfruttarle. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortesia e attenzione ed una serena Pasqua a tutti voi. Grazie a tutti.